La vicenda Monte dei Paschi di Siena interessa anche il biellese. Lo scorso anno infatti la Beaver Banca comprò 12 filiali di Anton Veneta dal colosso bancario di Siena. Il PDL biellese ha presentato ufficialmente i candidati al Parlamento per le elezioni di febbraio, dal senatore Pichetto attacchi al PD per la malgestione di MPS. Nel 2012 le imprese biellesi non sono cresciute, anzi lo scorso anno sono state chiuse quasi 1200 attività. Il Teatro Comunale di Cossato ospiterà giovedì 31 gennaio la serata di proiezione e premiazione del concorso di cortometraggi, 10 i film in concorso. Finalmente buone notizie per gli amanti dello sci. Temperature basse ma sole e neve sulle piste da sci di Monterosa Ski. Buongiorno e benvenuti al nostro telegiornale. Apriamo subito questa edizione con una notizia di economia. La vicenda Monte dei Paschi di Siena interessa anche il biellese. Lo scorso anno infatti la Biver Banca comprò 12 filiali di Anton Veneta dal colosso bancario di Siena, i particolari nel servizio. La vicenda del Monte dei Paschi di Siena ha dei riflessi inevitabili per quanto riguarda il sistema economico biellese. Infatti ricordiamo che la Biver Banca, la banca del territorio della nostra provincia, è stata per qualche anno in forte sinergia con MPS. L'anno scorso il colosso bancario di Siena ha venduto 12 filiali Anton Veneta per circa 80 milioni di euro alla Biver Banca. Sulla questione è giunto il commento di Luigi Squillareo, presidente della fondazione Biver Banca. Fortunatamente la questione non ci interessa. Le vicende di questi giorni risalgono agli anni 2004-2007. I nostri rapporti con MPS risalgono invece a inizio 2008, ha spiegato il numero 1 di Via Garibaldi. Insomma, pericolo scampato per la nostra banca di casa. Sotto la lente di ingrandimento, infatti, in questi giorni la scelta che ha portato MPS a pagare 9 miliardi per acquisire una banca, l'Anton Veneta, oggetto di compravendita pochi mesi prima a un prezzo di un terzo inferiore. Il PDL biellese ha presentato ufficialmente i candidati al Parlamento per le elezioni di febbraio. Dal senatore Pichetto attacchi al PD per la gestione della vicenda Monte dei Paschi di Siena. A un mese esatto dalle elezioni politiche del prossimo 25 febbraio, il PDL ha chiuso le liste dei candidati e presentato alla stampa coloro che correranno per un seggio in Parlamento. Per quanto riguarda il biellese, i protagonisti sono 5. Gilberto Pichetto, senatore uscente, era candidato alla Camera per la circoscrizione Piemonte 1. Lorenzo Leardi, segretario provinciale, settimo al Senato. Roberto Pella, dodicesimo alla Camera, Paola Vercellotti, quattordicesima alla Camera e Caterina Giacchino, sedicesima al Senato. La scelta di mettermi a correre a Torino è per me una lusinga, ha commentato Pichetto. La mia attenzione per il biellese rimarrà prioritaria. Il senatore ha poi attaccato il PD sulle responsabilità politiche nella gestione del colosso bancario Monte dei Paschi di Siena. Leardi ha spiegato che il suo impegno in Regione Piemonte come consigliere finirà la prossima settimana per impegnarsi a 360 gradi nella campagna elettorale. Alcuni sondaggi dicono che il PDL nel biellese è partito maggioritario, dobbiamo crederci esortato il numero 1 di Via Matteotti. Pella, Vercellotti e Giacchino hanno infine spiegato che lavoreranno pancia a terra non solo per cercare di entrare in Parlamento, ma per riportare il PDL in auge come lo era fino a poco tempo fa. E ancora una notizia di economia che riguarda il nostro territorio. Nel 2012 le imprese biellesi non sono cresciute. Anzi, lo scorso anno hanno chiuso i battenti 1.200 attività. Il sistema imprenditoriale biellese non ha avuto crescita nel corso dell'intero anno 2012. Niente di nuovo quindi sul fronte. Il bilancio nagrafico delle imprese biellesi, infatti, è pari a 142 unità. Risultato delle 1.048 nuove iscrizioni e dalle 1.190 cessazioni. Il bilancio tra le imprese nate e le imprese cessate si traduce in un tasso di crescita pari allo meno 0,72%. Nulla quindi. Nel corso dell'anno 2012 il sistema manifatturiero biellese nel suo complesso sembra confermare una certa stabilità, manifestando la volontà di trovare sempre nuovi spazi, soprattutto sui mercati di esportazioni, con l'obiettivo di incrementare la propria competitività, commenta il presidente della Camera di Commercio di Biella, Andrea Fortolan, gettando quindi un po' di acqua sul fuoco. In un contesto economico difficile, come quello odierno, la Camera di Commercio rafforza il suo sistema attraverso i propri servizi. Analizzando comunque le variazioni annuali dello stock delle imprese registrate nei vari settori di attività economica, si osserva come solo il turismo e l'agricoltura sono gli unici campi a realizzare delle variazioni percentuali positive. Si rivelano invece negative le variazioni riscontrate nei comparti delle costruzioni, del commercio e dell'industria in senso stretto e degli alti servizi. Il sistema delle imprese artigiani biellesi, dunque anche nel 2012, appare in netta difficoltà. Complessivamente si registra una variazione di stock negativa rispetto al 2011 pari almeno 2,5%. E ora una notizia di cronaca. Nuovo furto in una tabaccheria di pralungo. Il furto è stato scoperto nelle prime ore del mattino dal proprietario del negozio, che al suo arrivo ha trovato una finestra rotta e il negozio in disordine. All'appello mancavano alcune stecche di sigarette e sul furto stanno indagando i carabinieri. Cambiamo argomento. Testimonial di primo ordine per il Movimento per la vita di Biella. Ospite della serata organizzata per il prossimo primo febbraio sarà Gianna Iessen, sopravvissuta ad Aborto Salino. Sarà una serata indubbiamente interessante, sicuramente una serata che darà un punto a una situazione. E vi parliamo del Movimento per la vita e questo incontro che ha organizzato per il prossimo primo febbraio. Ne parliamo con il presidente del Movimento per la vita di Biella, Giovanni Ceroni. Abbiamo come ospite la statunitense Gianna Jensen. È una nostra amica, è una testimone pro-life, quindi per la vita, che ha vissuto nella propria pelle un'esperienza drammatica e ha saputo convertirla in una testimonianza in un certo senso di gioia, perché lei è una persona che vive pienamente la vita e ha al tempo stesso una testimonianza che fa riflettere e coglie la coscienza dell'uomo di oggi. Perché questo incontro? Che cosa volete dire con questo incontro? Questo incontro è stato fortemente voluto, è stato difficile trovare un testimone di questo profilo, di questo rilievo internazionale. È da un anno che stiamo dietro a Gianna, l'abbiamo conosciuta online attraverso le sue testimonianze, attraverso i vari mezzi di comunicazione online è stata contattata, sono riuscito a conoscerla personalmente prima che andasse a parlare di fronte agli italiani in un programma, in una rete nazionale. L'ho incontrata, ho conosciuto una persona autentica, una persona splendida, una persona gioiosa, una persona di carattere molto forte e questo ha confermato la nostra volontà di andare avanti, procedere e, diciamo, pervicacemente, perché non è stato facile, portarla qua a Biella e quindi è in un certo senso un dono che facciamo ai biellesi di ricevere questo personaggio in un luogo, diciamo, un pochettino, se vogliamo, non facilmente raggiungibile, in un luogo piccolo come Biella, è un personaggio che di solito va a parlare nelle grandi città di fronte a grandi audience come il Parlamento australiano, inglese, americano, per cui il profilo è molto alto. Proprio recentemente sono usciti dei numeri che, come dicevo prima, possono decisamente far pensare. Sono numeri che scuotono le coscienze, fanno tremare, in un certo senso, le gambe, le persone, perché Biella è una cittadina di poco più di 40.000 abitanti e in virtù di una legge dello Stato sono stati, come diciamo chiaramente in un comunicato stampa, smembrati degli esseri umani prima della nascita e la particolare gravità è proprio il fatto che questi esseri sono innocenti e sono giustiziati, quindi sovvertendo la logica naturale che c'è scritta in ogni cuore di ogni uomo di non uccidere in particolar modo un essere innocente. E ieri in seminario, in occasione della festa di San Francesco di Sales, patrono dei giornalisti, Monsignor Gabriele Mana ha celebrato una Santa Messa. Vediamo il servizio. Ieri il Vescovo Monsignor Mana ha preceduto la Messa Solenne nella Cappella Maggiore del nostro seminario, in occasione della festa di San Francesco di Sales, di cui è patrono ma non solo della struttura diocesana ma anche di noi giornalisti. Alla presenza pressoché totale del crelo biellese, nell'Omelia ha illustrato la figura del Santo, la cui opera fu molto osteggiata da parte dei calvinisti. Non è mancato un commosso ricordo dei recenti lutti, il Vescovo Emerito Giustetti, padre Accursio di San Sebastiano, il Paraco Pizzato del Piazzo e il Diacono Botto. Voglio anche fare riferimento a quelli che fanno festa in Paradiso, soprattutto ai quattro lutti che abbiamo avuto in queste ultime settimane, un siano Massimo Giustetti, padre Accursio, il Diacono Celestino, Don Pizzato. E certamente in questa festa di San Francesco di Sales penso che tutti e anch'io sento in modo speciale l'assenza di padre Massimo. L'anno scorso durante questa celebrazione presieduta da lui abbiamo ascoltato la sua omelia perché celebrava il quarantesimo anniversario di ordinazione episcopale e aveva detto quelle due parole che sono rimaste scolpite nel nostro cuore in una semplicità molto profonda grazie e pietà Il Teatro Comunale di Cossato ospiterà giovedì 31 gennaio la serata di proiezione e premiazione del concorso di cortometraggi dal titolo Non sprecare 10 i film in concorso Non sprecare è questo il tema su cui si affronteranno i 10 cortometraggi in concorso al Corto Cossato Doc Si tratta della seconda edizione del festival di cortometraggi organizzato e promosso dall'assessorato alle politiche giovanili e dall'informa giovani del comune di Cossato Tra i video a concorso vi sono opere di singoli autori e lavori di gruppo realizzati da ragazzi delle scuole Il concorso non è limitato al territorio biellese i cortometraggi infatti provengono da numerose province italiane La serata di premiazione e proiezione si svolgerà giovedì 31 gennaio alle ore 21 presso il teatro comunale di Cossato Una giuria di esperti assegnerà i premi ai videomakers in base alla qualità tecnica dei lavori e alla loro pertinenza con il tema assegnato I premi consistono in buoni da spendere in materiale tecnico Anche il pubblico potrà esprimere il proprio giudizio assegnando il premio giuria popolare Il programma della serata è vario Oltre alla proiezione e premiazione dei video in concorso sarà allestita una mostra fotografica dal titolo Vuoti a perdere È prevista la proiezione del nuovo videoclip del gruppo biellese Lomè la proiezione di un video fuori concorso intitolato Caramella e in più un momento di intrattenimento per tutti con un quiz cinematografico E ora passiamo agli altri eventi del nostro territorio Questa settimana il biellese sarà immerso nel carnevale ma senza dimenticare il giorno della memoria con mostre convegni e concerti Vediamoli all'interno della nostra rubrica Vediamo insieme quali saranno i principali appuntamenti di questo fine settimana nel biellese Iniziamo da sabato quando avrà inizio il carnevale di Biella 2013 a partire dalle 14.30 Ritrovo in piazza del monte partenza della sfilata dei bambini e delle maschere biellesi lungo via Italia accompagnate dalla banda verdi arrivo a Palazzo Europa per la consegna delle chiavi da parte del sindaco alla maschera cittadina il GP Seguirà una merenda per i bambini sotto i portici del comune A Candelo il palazzetto dello sport alle 21 in giro del mondo in 80 minuti o poco più in compagnia della banda musicale di Candelo San Giacomo lo studio danza insieme di Cavaglià la banda musicale di Montalciata Castellengo il coro biellese e la campagnola l'associazione di Tammini in Piemonte di Trivero accompagnati da una voce narrante dalla magia dei suoni e danza vi lascerete guidare in un tour musicale del mondo un viaggio tra luoghi sonorità e gesti nella colorata armonia sempre a Candelo nella sala degli affreschi all'interno del centro culturale rosminiane presentazione del progetto fonti ebraiche biellesi a cura dell'archivio di stato di Biella e dell'associazione Archivivo percorsi tra le fonti documentali della presenza ebraica nel biellese dal Mediolevo a oggi sempre sabato e sempre a Candelo nella biblioteca civica Livio Pozzo mostra sui lager nazista a cura dell'associazione nazionale ex deportati domenica biella nella biblioteca di città di città studi alle 16.30 favole di notte di Nadia Greggio Mario Bruso sarà la voce recitante Eleonora Parolini all'arpa il ricavato andrà devoluto al Fonda Edo Tempia domenica mattina alle 10 all'hotel Agorà giorno internazionale della memoria concerto del coro con Centus di Cavaglià esecuzioni di brani di origine ebraica e commemorativi della Shoah a biella al barazzetto a piazza della chiesa dagli ore 11.30 distribuzione della fagiolata invece a occhiappo inferiore dalle 10.18 numero 7 Teatro Studio nuovo progetto teatrale tenuto da Riccardo Mafiotti un teatro alla scoperta della creatività che abiti il tempo lo spazio le relazioni e il contatto con se stessi e ora passiamo al meteo buone notizie per gli sciatori vi aspetta infatti un fine settimana innevato sulle piste da sole un saluto a tutti gli appassionati della montagna e agli sciatori come sempre vediamo il meteoneve per il weekend in collaborazioni con le società sciistiche di Pila di Cervigna e Monte Rosa Ski un fine settimana che vede un buon tempo un tempo anche rigido ma bello per la giornata di sabato infatti la depressione che era posizionata sul Martiregno si sta spostando verso sud invece la domenica poi ci saranno degli impulsi nuvolosi provenienti da nord che nel primo pomeriggio e poi in serata porteranno anche delle nevicate ma vediamo com'è la situazione sulle piste con l'altezza della neve in Val d'Aias a D'Antagnò abbiamo 20-50 a Brusson abbiamo 60-70 a Champolluc abbiamo 30-110 qua per sabato le temperature variano in Val d'Aias da un meno 10 a meno 1 nelle ore centrali della giornata per invece la Gressonet Saint-Jean abbiamo 35-1 metro di neve all'arrivo delle piste e Gressonet e la Trinité abbiamo invece 50-160 qui nel Valle dell'Is le temperature sono comprese per sabato tra meno 12 e un grado a Bruei Cervigna in Val Tournance abbiamo una situazione di neve che va da 50 cm in paese a 2 metri a Plato-Rosa qui le temperature varieranno tra i meno 12 in meno 9 gradi quindi vedete che sono temperature proprio abbastanza rigide a Pila invece abbiamo da 50 a 1 metro di altezza di neve con temperature da meno 9 a meno 4 gradi tempo soleggiato con solo qualche irregolare nube e venti da nord nord-ovest passiamo a domenica dove ad Antagnò avremo Antagnò Valle D'Ellis Valle D'Ellis scusate avremo temperature che si alzano e avremo da meno 6 gradi di minima fino a 2 gradi tempo abbastanza soleggiato però con nubi in arrivo fin dal primo pomeriggio e in serata si potranno avere nevicate speriamo che questa neve arrivi perché la scorso weekend è stato veramente deludente per quanto riguarda la neve speravamo che rinfrescasse bene una bella nevicata rinfrescasse le piste scistiche ma non è stato così passiamo alla Valle D'Ellis per domenica avremo temperature che variano da una minima di meno 8 a una massima di 4 gradi nelle ore centrali della giornata a Brio e Cervigna avremo temperature minime da meno 8 a meno 2 e a Pila da meno 4 a meno 1 sempre anche per domenica avremo 20 da nord ovest bene per questo weekend è tutto un saluto e un arrivederci alla prossima settimana e in conclusione parliamo di sport Andrea Ingrasciotta della Fitness Club di Ponderano ha sconfitto ai punti i palmieri Claudio di Brescia nel circuito riservato da atleti di classe C di contatto pieno di kickboxing che si è svolto a Vanzaghello in provincia di Milano il fighter biellese allenato dal maestro Daniele Fenaroli ha conquistato la vittoria già nei primi due round anche i suoi compagni della squadra agonistica di contatto leggero con gli istruttori Deborah Marangone Baldi Marco si sono ben distinti una fantastica squadra junior ha poi conquistato tre medaglie d'oro e da sottolineare le buone prove di Giulia Longo Alex Caruso e Alberto Pinna e con questo è tutto da tutta la redazione grazie per averci seguito vi auguro una buona giornata Ira Marangone grazie per avercierto grazie a tutti grazie a tutti ragazzi